Gli allievi dell'Istituto Sacco di Sant'Arsenio partono con un nuovo percorso didattico finalizzato a migliorare la conoscenza e a renderli più consapevoli dell'uso della tecnologia digitale, offrendogli la possibilità di acquisire maggiori conoscenze e professionalità. Il progetto, denominato Restart for Future, punta alla costituzione di una rete aperta di scuole per la realizzazione di percorsi pilota di sperimentazione con metodologie didattiche innovative. Due percorsi sperimentali proposti a studenti e docenti, imprenditorialità digitale e pensiero computazionale, coding e robotica educativa, intelligenza artificiale. Un percorso formativo che vuole anche rafforzare l'intesa e l'affiatamento tra docenti e studenti. Fondamentale è anche il supporto delle famiglie. Infatti, attraverso il web e i social media, che rappresentano il principale supporto dell'attività, le famiglie saranno chiamate ad interagire nel percorso formativo su risultati ottenuti in termini di soddisfazione, motivazione e coinvolgimento degli studenti. Un nuovo ed interessante progetto a cui la dirigente scolastica Rosaria Murano ha riservato grandi energie, consapevole dell'importanza della scuola nel creare figure professionali a passo con i tempi, preparate ai cambiamenti che la società impone e in grado di poter vantare adeguata preparazione al contesto lavorativo in cui vanno ad inserirsi. Il progetto, spiega la preside Murano, svilupperà metodologie didattiche con ampia diffusione per un'efficace condivisione dei risultati e delle best practices maturate. La scuola sarà impegnata nella diffusione e la valorizzazione di idee innovative sui temi quale impresa digitale, robotica, coding, didattiche collaborative e costruttive, rapporto tra saperi disciplinari e didattica per competenze, rafforzamento delle competenze di base, progressione degli apprendimenti, compiti di realtà e apprendimento efficace. Insomma, sottolinea, imparare ad imparare per un apprendimento permanente. Nell'ambito del progetto sono previsti due incontri presso l'Istituto Sacco di Sant'Arsenio. Sabato 1 ottobre alle ore 17 il professor Aurelio Tommasetti, già rettore dell'Università degli Studi di Salerno, ordinario di economia aziendale, discuterà con studenti e docenti sul tema delle metodologie didattiche innovative e il loro utilizzo nella scuola, partendo dal diritto economia ed economia aziendale. Il secondo appuntamento, in programma sabato 8 ottobre, sempre alle ore 17, il professor Ferdinando Longobardi, professore di linguistica presso l'Università degli Studi di Napoli, l'Orientale e l'Università Cattolica del Sacro Cuore, affronterà il tema delle metodologie didattiche innovative della lingua italiana. Il progetto prevede anche la realizzazione di 12 video della durata di 3 minuti ciascuno con protagonisti ragazzi, la realizzazione di 3 webinar con esperti del settore, la stesura di un e-book attraverso la raccolta dei prodotti più significativi ottenuti grazie all'utilizzo delle metodologie didattiche innovative. Grazie 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 Grazie